Cambiamo argomento perché siamo al nostro viaggio tra le cendenze imprenditoriali del nostro territorio in cui si parla anche di alternanza scuola-lavoro. Oggi abbiamo visitato la Tera, SRL di Conversano, azienda che sviluppa soluzioni custom e allora ce la racconta in questo progetto voluto da Confindustria e Camera di Commercio, ce la racconta Isabella Battista. Ben trovati, oggi parliamo di alternanza scuola-lavoro e siamo a Tera in Conversano, siamo in compagnia di Antonio Sacchetti che è l'amministratore di questa azienda. Ci puoi raccontare un po' innanzitutto la mission della sua azienda e il valore dell'alternanza scuola-lavoro? Sì, la Tera si occupa a pieno titolo di IoT, l'Internet delle cose, l'Internet of Things che ormai è un approccio più che una tecnologia in sé che sta rivoluzionando diversi settori applicativi come l'industria. Quando parliamo di Industria 4.0 uno degli elementi fondamentali è l'Internet delle cose, quindi la sensorizzazione di tutte le macchine ma anche delle persone intese come fonte di informazioni che si integrano nell'azienda. Poi spaziamo anche nel residenziale, la cosiddetta domotica che oggi ha un approccio diverso con l'IoT, gli edifici e così via. Quindi l'Internet delle cose è sicuramente l'oggetto principale che descrive l'attività di Tera. L'importanza del progetto di alternanza scuola-lavoro è un po' insita anche nel nome stesso del progetto. Alternanza scuola-lavoro significa evidentemente che chi va a scuola è bene che sappia qualcosa anche di cosa significa il mondo del lavoro, visto che la preparazione scolastica è sì, diciamo, universale, ma deve anche avere un impatto sul mondo del lavoro, perché gran parte delle persone si auspica che in seguito agli studi approdino al mondo del lavoro. Infatti voi avete qui dei ragazzi che frequentano assiduamente i vostri uffici, i vostri laboratori e conoscono veramente dal vivo cos'è il lavoro. Sì, assolutamente. Quello che stiamo facendo con le persone, diciamo, individuate grazie a questo progetto è consentirle di conoscere cosa fa l'azienda e di mettere mano laddove possibile direttamente a cosa fa l'azienda. Bene, adesso restituisco la linea e poi vedremo effettivamente quali sono le mansioni che questi ragazzi hanno praticato, hanno fatto in questo periodo di alternanza. A dopo. Rieccoci in Tera, siamo in compagnia del tutor interno Massimiliano Silberti, che ovviamente ci deve spiegare un po' che cosa hanno fatto i ragazzi di pratico in questa azienda e insomma come si sono trovati anche qui. I ragazzi hanno iniziato un percorso equivalente al loro terzo anno di scuola superiore, quindi sono arrivati praticamente poco più che bambini, diciamo, e hanno fatto un primo approccio col mondo del lavoro, imparando come ci si comporta in un'azienda, perché sono cose che la scuola alla fine non ti insegna, e quindi come ci si rapporta con i colleghi e come ci si approccia poi al lavoro vero e proprio. Noi siamo un'azienda che fa elettronica e che fa informatica, quindi hanno iniziato da subito a prendere di mistichezza con quelli che sono gli strumenti dell'elettronica da prima e dell'informatica da dopo. Quindi hanno iniziato a lavorare su schede elettroniche, hanno iniziato a conoscere quelli che sono i componenti di una scheda elettronica, successivamente sono passati alla programmazione delle schede elettroniche vere e proprie andando, quindi completando il discorso istruttivo scolastico con un discorso pratico relativo al mondo del lavoro in un contesto aziendale. Che cosa potremmo salvare dall'alternanza scuola-lavoro? Ci sono aspetti positivi, ci sono aspetti che forse vanno migliorati. In un'azienda voi avete a contatto proprio con i ragazzi questo lavoro che fanno. Cosa ne pensa? Certo, l'alternanza secondo me va salvata perché riesce a dare allo studente un rapporto con il mondo del lavoro che altrimenti la scuola non riesce a dare, soprattutto riesce a colmare quel gap di due velocità diverse che hanno la scuola e che hanno le aziende nell'aggiornamento tecnologico, soprattutto noi lavoriamo in un campo molto veloce a livello di aggiornamento. Quindi è importantissimo questo contatto che secondo me dovrebbe essere continuo tra mondo della scuola e mondo del lavoro, dell'azienda in particolare, che dovrebbe fare un po' da volano nella formazione degli studenti. Ebbene, allora forse è il caso di conoscere proprio dal vivo gli studenti e conoscere il loro parere. Nel frattempo ti restituisco la linea. Bene, allora entriamo nel vivo dell'alternanza scuola-lavoro, siamo sempre a Terra con Versano e siamo in compagnia del professor Spaccavento e di Samuel Pesole, che è lo studente che ha frequentato appunto per tre anni i laboratori di Terra. Perché, professore, questo progetto in cui siete coinvolti è il progetto Treneship, che è appunto un progetto triennale. Sì, il progetto Treneship è stato promosso da Federmeccanica, è un progetto pilota. Solo 50 istituti in tutta Italia hanno avuto la possibilità di aderire a questo progetto e tre in Puglia e noi siamo uno dei tre istituti che hanno avuto la possibilità di attuare questo progetto nel settore meccanico-meccatronica ed energia. Vediamo un pochino, insomma, con te. Tu hai seguito appunto per tre anni questo progetto. Sei stato in questi laboratori, hai avuto modo di toccare con mano, poi tra l'altro è il tuo indirizzo. Allora, raccontaci un po' le tue sensazioni, anche quello che poi hai, che porti via di questa esperienza. Allora, diciamo che questa esperienza è stata molto bella comunque perché mi ha permesso di fare parte comunque ad un progetto e quindi di capire come sia essenziale ogni singola persona a far parte di un progetto. Quindi proprio anche chi programma, chi si occupa solamente di hardware, è comunque essenziale alla fine di un comune progetto. Comunque anche stare in azienda è comodo, soprattutto alla nostra età, in modo da imparare a gestire il futuro. La scuola ci ha formato anche soprattutto sotto l'ambito di sicurezza, quindi abbiamo affrontato anche un corso di sicurezza sul lavoro come è giusto che sia, in modo che io so cosa vado a rischiare quando tocco determinati strumenti, quando utilizzo una determinata attrezzatura. Quindi anche la scuola ci ha dato molto una mano su questo. L'azienda comunque mi ha accolto molto bene perché è una fantastica azienda per come la vedo io. Comunque sono tutti molto gentili, ti aiutano sempre, se hai qualche problema ti danno una mano, ti capiscono, poi c'è sempre anche il momento in cui si ride, si scherza, si gioca. E quindi è stato anche molto formativo dal punto di vista personale e anche molto professionale. Quindi hai capito che cosa vuoi fare, vuoi da grande? Sì, vabbè, il mio progetto è diventare sistemista, quindi ho scelto bene i miei studi e ho scelto bene tutto quello che sto facendo finora. Professore, un'ultima domanda. L'alternanza scuola-lavoro aiuta questi studenti a orientarsi sin dal primo momento e ovviamente la scuola deve accompagnarli per tutto questo percorso? Certo, l'alternanza scuola-lavoro ha una funzione proprio orientativa, proprio perché quello che hanno sognato, quello che hanno immaginato di fare, possono verificarlo direttamente sul campo. Quindi è molto importante per loro verificare se hanno fatto la scelta giusta. Ovviamente l'alternanza scuola-lavoro può rappresentare un valore aggiunto da un punto di vista sia professionale, perché loro nell'attività di alternanza scuola-lavoro non fanno altro che potenziare alcune delle competenze che fanno parte proprio del percorso di studi e quindi compatibilmente con la realtà alternale vanno ad approfondire alcuni aspetti proprio del profilo del tecnico che loro vanno a studiare. Bene, allora oggi abbiamo conosciuto alcune buone pratiche che fanno parte dell'alternanza scuola-lavoro, siamo stati interi. Io ringrazio tutti i nostri ospiti che ci hanno accolto e ci hanno guidato in questo mondo e ti restituisco la linea. Alla prossima!